Fratelli e sorelle bianconeri, cresce spasmodica l'attesa per questo finale epico di campionato dove, ripeto, non è scritto da nessuna parte che noi vinciamo a Bologna e che il Milan non vinca a Bergamo anzi, anzi, io continuo a essere scettico perché so il rendimento del Milan in trasferta conosco il Milan come gioca in trasferta e come gioca in casa non so quali saranno le motivazioni dell'Atalanta e ripeto, soprattutto conti alla mano il Milan ha vinto tutti gli scontri diretti giocando in trasferta, li ha vinti bene peraltro, perciò l'ennesimo match point sta sempre a loro loro sono padroni del destino come lo era l'Inter padrona del destino il 5 maggio del 2002 sono padroni del destino e dunque decideranno loro, noi dobbiamo solo vincere col Bologna per fare il nostro dovere e non sarà semplice perché, ripeto, conosco i miei polli e so che queste partite ne ha sbagliate ne ha sbagliate tante, tante, tante ragazzi detto questo, nel caso, nel caso remoto dovesse arrivare veramente questo miracolo, questa qualificazione miracolosa io non voglio che si cancelli, che venga cancellato tutto lo schifo fatto quest'anno e attenzione ragazzi, perché non è che il giudizio su confermare Pirlo o mandare Pirlo deve essere tutto legato a una serie di coincidenze, di risultati incrociati cioè non è che se l'Atalanta pareggia sul calcio d'angolo al 91esimo Pirlo diventa buono perché ha preso il quarto posto perché i giudizi vanno fatti, ma neanche a maggio, ma neanche ad aprile già andavano fatti a gennaio e febbraio ragazzi spero che questa società sia seria, almeno una volta sia seria e non giudichi Pirlo dal risultato, ma lo abbia già giudicato perché sarebbe gravissimo, cioè non cambia niente tra entrare o non entrare per un punto, per mezzo punto o per un colpo di culo al 90esimo il giudizio deve essere già chiaro se ti è piaciuto Pirlo lo tieni, spero di no se non ti è piaciuto lo cambi, spero tu abbia contatto con qualcuno già ma non deve decidere l'episodio cioè indipendentemente da quello che succede domenica deve essere già fatta la scelta e noi tutti speriamo che la scelta sia quella di mandare di mandare questo neopatentato che ne ha fatte di cotte e di crude per non trovarsi di nuovo il prossimo anno di nuovo nella stessa barca, con gli stessi errori con le stesse cazzate cioè ragazzi il giudizio deve essere sulla stagione non può una partita decidere se confermare o non un allenatore spero che non, spero vivamente che Agnelli non faccia l'ennesima cazzata perché sarebbe ridicola giusto? detto questo ragazzi è ora di finirla con ste pagliacciate dei social anche certi VIP tipo quella merdaccia di Bonolis e sempre con sta continua allusione calciopoli, che schifo, una vergogna basta, a questo gioco non ci stiamo uno perché mancano 14 rigori alla Juve quest'anno e non si è mai andato al VAR a controllarli numero uno e mi sono stato zitto basta ma quello di Bentancur non può passare non può passare come un errorino mentre quello su quadrato deve essere l'errore del secolo non può passare impunito uno perché lasci una squadra che stava dominando la partita in 10 costretta anche a togliere i propri attaccanti e arretrare tutta per difendere in 10 contro 11 e non è la stessa cosa ma soprattutto per come è venuto quel giallo per come è venuto perché Calvarese si gira si gira verso il quarto uomo sente qualcosa all'auricolare si vede benissimo non dà il giallo subito perché se vedi se sei convinto di dare il giallo fallo subito tiri il cartellino sei pronto a darglielo no, lui si ferma cerca il punto della punizione passano secondi su secondi su secondi lui si gira sente qualcosa e si gira verso il centro del campo una segnalazione che da regolamento non può arrivare perché l'aiuto del VAR o del quarto uomo può arrivare solo per un rosso per un rosso diretto non per un giallo stiamo andando veramente a violentare il protocollo non esiste non esiste guardatevi bene le immagini non dà il giallo per 10-15 secondi e poi si gira di scatto sente qualcosa e si gira verso il centro del campo ignobile ignobile la segnalazione buttalo fuori buttalo fuori perché era perché Lukaku andava in porta con quattro difensori pronti allineati finiamola con ste cazzate e passerà impunito questo tutto sul quadrato tutto sul fallo di quadrato non ci sto a questo gioco al massacro e soprattutto non ci sto che la nostra ex bandiera Alessandro Del Piero per l'ennesima volta parli troppo parole sue i vertici arbitrali devono dare spiegazioni diano spiegazioni i vertici arbitrali il fallo su quadrato ho capito io non mi aspetto la difesa spadatratta ma neanche che tu faccia lo stronzetto come l'hai fatto altre volte in questi ultimi due tre anni con altre dichiarazioni capisco che sei avvelenato con Agneli ma non devi essere avvelenato con la maglia bianconera è giusto che tu sia avvelenato contro Agnelli giusto legittimo ma non contro la Juve e contro i tifosi bianconeri Alessandro Del Piero parla di Bentancor Alessandro Del Piero parla dei dei quattordici rivoli negati alla Juve parla di tutte le volte che il chiese è stato falciato in aria senza essere andati al bar Del Piero parla di questo invece di concentrarti sempre su sto cazzo di quadrato chiediamo amore amore da parte tua come l'amore che abbiamo noi tifosi verso di te amore e rispetto impara da Fabrizio Ravanelli che come ci ha difeso in quella tana di lupi di Italia 1 di Pressing impara da Fabrizio Ravanelli che è stato molto meno alla Juve molto meno di te impara da lui cos'è l'amore per la maglia bianconera fino alla fine